Musiche a teatro e musical, così si alza il sipario del teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino per una nuova stagione di spettacolo sotto la direzione artistica dell'associazione culturale Capotrave Chilovat. Credo che davvero chi abbia a cuore il teatro, a chi piaccia teatro, non può non venire a Castiglion Fiorentino perché abbiamo dato un'offerta plurale, un'offerta dove si parla di teatro d'autore, di teatro di narrazione, musical. Otto gli appuntamenti in cartellone da mercoledì 26 ottobre a giovedì 28 aprile per una stagione all'insegna della qualità artistica. Si parte con Edoardo Bennato, un grande nome della musica, del cantautorato italiano, ma è una rassegna molto molto varia perché si passa dal teatro di narrazione con uno dei spettacoli che l'hanno inventato, quindi Colas di Marco Baliani a un grandissimo mattatore della scena giovane e contemporanea che è Roberto Latini per me, il più bravo attore italiano del momento. C'è un musical, c'è uno spettacolo di commedia dell'arte, c'è Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, quindi due pezzi di storia del cinema e del teatro italiano. Quindi insomma si va su delle cose molto diverse, c'è uno spettacolo invece che indaga i rapporti maschili attraverso il tema della pornografia, quindi insomma anche dei temi un po' scottanti e curiosi, ma insomma spero anche divertenti nell'andamento complessivo di questa stagione. Tra gli appuntamenti più attesi senza dubbio il ritorno a Castiglion Fiorentino di un cantautore d'eccezione, Edoardo Bennato. Edoardo è venuto qua nel corso di un evento sempre musicale, fatto all'attore del Cassero insieme a Ringo e Marchi Ramone, è nata un'amicizia, ci siamo risentiti, rincontrati, è venuto più di una volta a Castiglion Fiorentino e si è favorevolmente colpito quando ha visto il teatro di Castiglion Fiorentino, il teatro Spina. Per cui non è che abbiamo chiesto a Edoardo di fare uno spettacolo, ma è Edoardo che ce l'ha proposto e ovviamente ne siamo particolarmente lieti e orgogliosi.